Un paio di giorni fa abbiamo visto come solo Sicoa abbia onorato la memoria di Umaga durante l'ultima puntata di Raw cronologia americana e ora il figlio del lottatore scomparso ha deciso di seguire le orme del padre e ha iniziato ad allenarsi nella scuola gestita da Booker T. Il suo nome Zilla Fatu chissà se riuscirà a sfondare beh intanto il sangue non mente il wrestling ce l'ha nel dna e poi devo dire che si è affidato ad un coach di sicure qualità e competenze